stavano la stessa squadra pellegrini calabresi di mariano sanabria era anche quella un'ottima primavera attenzione qui c'è spazio sulla sinistra la roma con dalla dalla con felix era solo adesso gliela dà adesso gliela dà troppo tardi troppo tardi invece di far correre una stupidità allucinante proprio guarda invece di far correre sulla stessa linea veretu si prova ad accentrare cerca dall'altra parte cannesperes che però viene anticipato si andrà dalla bandierina un filo dalla bandierina che divide la tevere dalla nord palla dentro di olivera dentro e andiamo dai cumbulla abbiamo trovato abbiamo trovato un pareggio anche meritato per le occasioni flavio perché sì erano veramente tante ebbè contenti per cumbulla che è un buon momento questo ragazzo dopo la sfida col cagliere comunque anche in un buon momento terzo gol con la roma lo scorso anno due uno in coppa con i milan con il milan pareggio 3 a 3 contro la young poise sì 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 questo è il gol sì tutto regolare l'incrocio è perfetto sembra un altro un altro difensore rispetto a prima comunque in crescita quantomeno in crescita bravo zaniolo destro che grande gol che grande gol tammi esulto con rabbia ma più quasi per la bellezza della giocata del gol una sta affilata da fermo all'angolino caro caro il mio flavio veramente strepitosa veramente strepitosa per via centrale l'azione della roma poi in un fazzoletto veramente in un fazzoletto l'ex bomber del celsi fa piede perno si gira e fredda con un diagonale potentissimo miglietaria bravissimo zaniolo a farla scorrere giocatori forti andrea eh flà miglietaria zaniolo abram grandissimo in cinque minuti in palo un'altra occasione e in gol ci sarà no una una ragione in tutto questo grandissimo gol di tammi abram grandissimo gol di tammi abram bellissima nazione della roma che si è sviluppata veramente tutto per via centrali e la roma mette la freccia la freccia e tu hai fatto un solo gol non esiste al mondo è lucidante che ha fatto casca per terra cadere sul retropassaggio è impressionante tu abbia fatto solamente tre gol si fra Cagliari e Lecci in 180 minuti da tra Cagliari e Lecci con tutto quello che che ti sei costruito sì pazzesco che bravissimo Mkhitary manda dentro Shomuro dov'entra nella di rigore Shomuro dov'entra va sul destra il gol che non ha fatto il gol che non ha fatto contro il Cagliari lo fa qua è anche un gran bel gol è anche un gran bel gol è splendida azione e adesso fa più freddo all'olimpico perché la partita è in ghiaccio signori su ci avviciniamo questa è una grandissima azione a Roma tutto in verticale Cagliari per Abram poi grande grande imbeccata di Mkhitaryan per Shomuro dov'entra che rimane freddissimo freddissimo glaciale stavolta Luxbeko rientra sul destra appena dentro l'area di rigore e fa secco in uscita sul proprio palo Gabriel